Amica mia, come si sta lassù? È da tempo che non ci vediamo più Te ne sei andata a sedici, ma il tuo nome è presso nei nostri cuori, puoi credermi Mi parlavi dei tuoi sogni e quello che mi fa incazzare è che ne avevi molti Ti piaceva viaggiare, visitare i posti, un po' come tutte le donne, parlare di gossip Ti ho vista sul letto di morte, con il vestito bianco e con in mano un fiore Io vorrei ritornare all'ultimo giorno in cui mi hai visto perché giuro ti apre stretta Molto più forte, scusa se mentre scrivo sto piangendo Tu le disgrazie le affrontavi sempre sorridendo Tu mi hai insegnato ad amare la vita per quello che ti offre Anche se pone domande non ti dà fottute risposte Grazie a tutti